aggiungo un altro documento alla database che trovate sulla pagina facebook che dopo vi indico oppure semplicemente come al solito spedisco quello che leggete qui per sommi capi sullo schermo la dichiarazione dei fatti celebre sulla quale sul triangolo viola la società tra riguardi ha cercato di così papocchiare una risposta assolutamente non convincente ma nel senso che convince solo chi dei testimoni di Geva ha sentito parlare di questa questione e si fa abbastare questa risposta anche perché non è l'unico documento che rivela il tentativo dell'allora Rutherford di ringraziarsi almeno all'inizio dei favori insomma il permesso di poter predicare in Germania e quindi insomma lisciando un po' il Führer e questo è fin troppo evidente nel momento in cui loro stessi condividevano fortissime critiche questo è un efemismo nei confronti degli ebrei dei quali voi non sospettate assolutamente l'esistenza fin quando non leggete la documentazione che come al solito appunto l'atore di guardia vi nasconde se non altro perché ripeto nel momento in cui in alcuni broadcasting recentemente dicono siete orgogliosi della vostra storia e no non lo sei proprio tu per primo della tua storia perché non permetti l'accesso ai fedeli delle pubblicazioni più vecchie ecco allora questo documento ve lo mando o lo potete comunque trovare online su questa pagina alla quale ci si può iscrivere senza necessariamente essere cattorgi o cristiani il nome è quello perché ho voluto radunare in questo gruppo facebook persone che comunque hanno il desiderio di riconsiderare la loro visione della chiesa alla quale io appartengo cioè la chiesa cattolica e nonostante tutto la squintalata di cacca che l'atore di guardia ha cercato di buttarle addosso in questi 150 anni scusate se sono molto crudo ma l'atore di guardia lo è di più purtroppo in fronte della chiesa con tutti i suoi sbagli con tutte le sue pagine buie che però non deve non devono impedire di vedere tutto anche la luce che in questi due mila anni c'è stata della chiesa cattolica per dirne una gli ospedali sono nati proprio all'interno della tradizione assistenziale della chiesa solo per dirne una e devo dire che l'ateo Barbero sta restituendo molto giustizia a tante pagine che sono state viziate da odio anticlericale quindi alterate per quanto riguarda la storia della chiesa lui sta veramente dicendo diverse cose che restituiscono verità alla storia della chiesa stessa non credente quindi insospettabile non è proprio certamente di parte Barbero quindi il sito, la pagina facebook alla quale potete chiedermi amicizia questa qui la comunità di Jesus Worshippers mi sono un po' divertito insomma qui abbiate pazienza posso divertirmi anch'io comunità cristiana cattolica di ex testimoni di Geova ecco questa è una pagina ripeto nella quale ho caricato e sto caricando molti file di cose che pubblico sulla pagina youtube e quindi vi prego così anche altrimenti di scrivermi sudo stefanomaria.chiocciolalibera.it e vi mando tutto quello che volete un carissimo saluto a tutti voi e buona continuazione di ricerca grazie a tutti